Quello di oggi rischia di diventare a pieno titolo il video più faticoso mai realizzato fino ad ora nella storia di questo canale. E perché? Perché quest'oggi vorrei mostrarti, come mi è stato chiesto tante volte dopo la presentazione di VirtualBox, come virtualizzare un macOS in ambiente Windows. E fino a qui sarebbe facile se non fosse che la licenza d'uso di Apple vuole che le virtualizzazioni possano avvenire solo ed esclusivamente su hardware Mac. E quindi che cosa ho dovuto fare? Sono dovuto andare nel mio laboratorio dove ho il mio Mac di lavoro, prenderlo, smontarlo di sana pianta, portarlo qui nel mio ufficetto dove di solito effetto la registrazione di questi video, montarlo, collegare tutto e fare questa registrazione direttamente da Mac. Ma siccome questo è un canale che si occupa solo ed esclusivamente di Windows, per il momento almeno, cosa faremo? Virtualizzeremo all'interno del Mac un sistema Windows, naturalmente Revaio S, e all'interno del Revaio S virtualizzeremo a nostra volta un Mac, per mostrare che effettivamente la virtualizzazione di Mac è possibile anche in ambiente Windows. Ma a questo punto, prima di procedere, dobbiamo farci una domanda molto importante, che poi è la solita. Ti senti pronto? Iniziamo! Riguardando l'introduzione che ho appena finito di girare, mi sono accorto che quest'oggi devo essere un filino esagitato. Non so se sia per via del trasporto del Mac oppure perché ho accettato un caffè da un cliente e devo dire la verità non sono molto abituato, ma cercherò nel resto del video di essere più compassato. Bene, prima di iniziare, una cosa fondamentale da capire è che per installare MacOS su VirtualBox abbiamo bisogno di una copia di MacOS. Io ho utilizzato il mio DVD originale del mio Mac, quello che mi vedi usare in questo momento, ma nulla vieta che tu possa anche scaricare l'immagine ISO da internet. Questo naturalmente può essere fatto in diversi modi. Prevalentemente comunque ti è possibile sia da un computer Mac che da un computer Windows effettuare una ricerca e scaricare la relativa ISO. Siccome però a questo punto andremo a simulare una installazione effettuata appunto da un Windows da un RevaiOS, avviamo il nostro sistema RevaiOS e vediamo come procurarci una ISO direttamente in Windows. Ed eccoci nel nostro RevaiOS, insomma a casa nostra. La prima cosa che devi sapere è che ci sono diversi modi di installare Mac. Lo si può fare a partire da un ISO, come siamo soliti scaricare, oppure si può utilizzare un file VMDK, che è una sorta di disco virtuale, oppure si può partire da uno dei DMG, che poi sarebbero le ISO di MacOS che sono scaricabili online. Dato che per questioni di brevità non posso illustrarteli tutti, cercherò di mostrarti il più semplice se appunto non disponi già di un sistema operativo Mac da utilizzare per le tue prove. Il sistema più semplice è quello di scaricare un file VMDK. Andiamo a vedere come fare. Apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare download MacOS, ad esempio Big Sur, ma tu potrai inserire altre versioni del sistema operativo VMDK. Effettuiamo la nostra ricerca e vediamo che ci vengono proposti diversi risultati. In questo caso io andrò sul primo risultato e in questa pagina ci basterà scendere fino in fondo dove troveremo il nostro link di download. Eccolo qui, download MacOS, Big Sur, VMDK file, eccetera eccetera. Ci basta cliccarci su e verremo trasportati in Mega, dove automaticamente partirà il nostro download del file. Nel corso del download ti dovesse comparire una finestra come questa, niente paura, ti basterà chiuderla, ritornare indietro e utilizzare il secondo link che anziché da Mega va a scaricare da Mediafire. Mentre attendiamo il termine del download andiamo a preparare la nostra macchina VirtualBox. Se tuttavia non sai ancora come scaricare e installare VirtualBox ti conviene guardare prima l'altro video che ho realizzato precedentemente e che ti lascio qui in alto in descrizione che si chiama il computer onnipotente. Bene, detto questo andiamo ad aprire il nostro VirtualBox e a creare una nuova macchina che ospiterà il nostro MacOS. Clicchiamo quindi su nuova. Nel nome possiamo andare a scrivere MacOS Big Sur e vedremo che automaticamente verranno impostati come tipo di macchina MacOS e come versione quella a 64 bit. Possiamo fare clic su avanti e andare a scegliere le caratteristiche di questa macchina. Ora, se parti con una macchina ad esempio con 4 giga di ram puoi tentare di configurare un MacOS da 2 giga però ti preannuncio che i risultati saranno deludenti. L'ideale per Mac sarebbe 8 giga quindi se hai una macchina con 16 giga o più i risultati saranno ottimali altrimenti potrai andare ad impostare ad esempio 4 giga. Per far girare Mac ti serviranno 4 processori. Clicchiamo ancora su avanti. Come dimensioni del disco virtuale ci serviranno almeno 80 giga. Io ne sceglierò uno da 100. Clicchiamo quindi ancora su avanti e quindi su fine. Buttiamo momentaneamente giù il nostro VirtualBox e torniamo a vedere la situazione del download. Come vedi il nostro Big Sur VMDKey è stato scaricato e quindi lo troveremo nella nostra cartella download. Possiamo chiudere il browser e andare a installarlo sulla nostra nuova macchina ma non prima di aver apportato alcune ulteriori correzioni. Torniamo quindi ad aprire il nostro VirtualBox. Clicchiamo con il pulsante destro sulla macchina che abbiamo appena creato e scegliamo la voce impostazioni. Nella finestra che si aprirà la prima cosa che dovremo fare sarà quella di andare su schermo e portare la memoria video al massimo 128 megabyte. Successivamente andremo su archiviazione. Cliccheremo sul pulsante più per andare ad aggiungere un ulteriore disco rigido che altro non sarà se non il VMDKey che abbiamo appena scaricato. Quindi facciamo clic su più, scegliamo la voce disco fisso, clicchiamo su aggiungi e ricordiamoci che nella cartella download abbiamo appena scaricato il nostro Big Sur. Quindi lo selezioniamo e clicchiamo su apri. A questo punto clicchiamo su scegli e vedremo che il nostro Big Sur sarà stato aggiunto alla nostra macchina virtuale. Attenzione, quello che ti ho appena fatto vedere è l'aggiunta di un'immagine disco prelevata da una fonte non esattamente sicura. Questo lo so bene, ma innanzitutto ricordiamoci che si tratta di una macchina macOS meno vulnerabile ai virus rispetto alle macchine Windows, ma soprattutto che si tratta di una macchina virtuale. Quindi di conseguenza il nostro computer principale non sarà a rischio particolare utilizzando un'immagine di questo genere. Quello che naturalmente io ti consiglio laddove sia possibile è quello di procurarti una immagine originale oppure un disco di installazione Mac. Detto questo andiamo ancora più giù alla voce usb e andiamo a modificare il nostro controller in controller usb 3.0. A questo punto siamo quasi pronti per avviare la nostra macchina che è completamente configurata, ma prima di farlo clicchiamo ok e andiamo a fare un'ulteriore operazione. Quello che dobbiamo fare è aprire un prompt dei comandi in modalità amministratore, quindi digiteremo cmd e andremo a cliccare con il pulsante destro sulla voce prompt dei comandi scegliendo esegui come amministratore. Acconsentiremo le modifiche al dispositivo e prima di far partire la macchina andremo ad inserire una serie di righe di comando che per tua comodità ti lascerò in descrizione, quindi potrai anche semplicemente fare un copia incolla ed eseguirle direttamente nel tuo prompt dei comandi. Quindi buttiamo momentaneamente giù il nostro virtual box e andiamo a prendere il file che tu invece ripeto troverai in descrizione del video e a copiarne tutto quanto il contenuto. Possiamo a questo punto chiuderlo e nella schermata di DOS andare ad incollare anche tutti quanti insieme i comandi che ho appena dato, premendo invio al termine dell'operazione. Ecco fatto, questi comandi servono ad impedire in ambiente windows che questa immagine mac os dia qualche errore. Una precisazione importante prima di continuare. Come vedi in questi comandi è indicato il nome della macchina che ho appena creato. Puoi notare in virtual box che la macchina si chiama mac os big sir e anche qui in tutte queste righe si chiama mac os big sir. Ora cosa succede? Succede che se tu per caso dovessi dare un nome diverso alla macchina che vai a creare rispetto a quello che ho dato io, allora dovrai correggere anche nei comandi, in tutte quante le voci, in queste parti qui, il nome della macchina, in modo che ci sia una corrispondenza perfetta. Torniamo a chiudere il file e avviamo finalmente la nostra macchina virtual box. Come puoi vedere immediatamente parte l'installazione del nostro nuovo sistema operativo. Benissimo, arrivati a questo punto, quello che dobbiamo fare è andare a cliccare sulla voce utility disco, scegliere continua e nella parte sinistra andare a selezionare il nostro hard disk virtual box. Cliccare con il pulsante destro e selezionare inizializza. Possiamo attribuire un nome al nostro disco e lasciare le altre due voci esattamente come si trovano. Clicchiamo su inizializza e quindi clicchiamo su fine. Possiamo chiudere questa finestra e questa volta cliccare su installa mac os big sir. Clicchiamo su continua. Nella finestra successiva clicchiamo su continua. scorriamo fino al termine e clicchiamo su accetta. Clicchiamo su accetta e andiamo a selezionare il disco che abbiamo appena creato e che appunto avevamo chiamato mac os. Clicchiamo su continua e attendiamo il termine dell'operazione. Ed eccoci qui. A questo punto naturalmente dovremo andare a scegliere la nostra zona e quindi a scegliere come paese l'Italia. Selezioniamo e andiamo a premere il pulsante continua. Lasciamo tutto quanto esattamente come si trova e premiamo ancora continua e su questa schermata possiamo anche premere non adesso. Ancora una volta premiamo continua e su questa schermata invece faremo clic su non ora. Clicchiamo su configura più tardi e ignoriamo l'accesso con un id apple. Facciamo clic quindi su accetto e nuovamente su accetto. Digitiamo il nostro nome. Nella riga sotto scegliamo il nostro nome utente ed una password di almeno 4 caratteri. Digitiamo infine un suggerimento e facciamo clic su continua. In configurazione veloce possiamo lasciare tutto come si trova e cliccare su continua. Ancora una volta su continua. Qui cliccheremo su configura più tardi. Disabilitiamo chiedi a siri e clicchiamo su continua. Scegliamo l'aspetto di mac os che preferiamo. Io sceglierò il tema chiaro e cliccherò su continua. Dopo aver premuto su continua nella schermata precedente andiamo a premere il tasto immediatamente a destra del tasto maiuscole che si trova a sinistra della tastiera. In questo caso sarà una parentesi angolare. Clicchiamo su fine e attendiamo l'avvio di mac os. Eccoci qui. Il nostro mac os è stato finalmente installato ed è pronto per essere utilizzato. In realtà questo video della apparente durata di circa 15 minuti mi ha richiesto un pomeriggio abbondantissimo di lavoro. Infatti adesso è sera e come puoi vedere l'orologetto alle mie spalle sia anche scaricato. Ma vuoi mettere la soddisfazione di avere una mela nel computer? Va bene, detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!